Ciao ragazzi, continuiamo le nostre lezioni su Cante, in modo particolare sulla critica della ragion pratica, quest'opera morale che abbiamo imparato a conoscere. Vi invito anzi ad andare a vedere i video precedenti proprio sulla critica della ragion pratica dove abbiamo parlato di legge morale, di massime e di imperativi. Ed è da qui che oggi partiremo, dalla legge morale per comprendere quali sono le formulazioni, le tre importantissime formulazioni dell'imperativo categorico. In video precedente abbiamo parlato della differenza tra massime e imperativi. Che cos'è una massima? La massima è una prescrizione di carattere soggettivo, significa che noi, dice Cante, quando nel nostro agire ci comportiamo in un determinato modo seguiamo sempre una massima, cioè una norma di comportamento che però è soggettiva e quindi è valida solo per noi, per quanti scelgono di seguirla. Però poi abbiamo gli imperativi. Gli imperativi invece sono delle norme, sono dei principi, sono assolutamente oggettivi, quindi si possono estendere a tutta la comunità. Possiamo estenderli anche agli altri individui. Come imperativo abbiamo visto l'imperativo ipotetico, che è una norma che ci consente, sempre oggettiva, di raggiungere un fine, ma abbiamo anche l'imperativo categorico, che ha la forma del dovere. Non c'è un fine da perseguire, ma devi comportarti in un certo modo perché devi. La legge morale ha la caratteristica dell'universalità e della necessità. Perché? È necessaria perché non può essere diversa da com'è. Significa che è una legge che è autonoma, è una legge formale, perché ci dà l'eidos del comportamento e dell'agire, ci dà la forma. Kant non ci dà una morale con delle nuove regole, non parla in modo dettagliato e specifico delle regole da seguire ogni qual volta ci troviamo a dover scegliere, a dover agire, ma lui ci dà, vi dicevo, un eidos, cioè ci dà la forma della moralità. Un atteggiamento per essere morale deve avere determinate caratteristiche. La legge per essere morale deve avere la caratteristica della necessità e della universalità. Universalità perché? Perché deve essere valida per tutti gli uomini, ma la legge morale in sé, in quanto dettata dalla ragione, in quanto fatto della ragione, è universalmente riconosciuta. Ciascun uomo può riconoscere che esiste quella bussola famosa che ci dice sempre come ci dobbiamo comportare. Un atteggiamento, però, attenzione, può essere morale o non morale. Kant ci insegna a comprendere quando un atteggiamento è morale e quando invece non lo è. Per quanto riguarda sempre la legge morale, abbiamo capito dunque che la legge morale ha la forma di un imperativo categorico, cioè di una massima che può essere condivisa da ogni essere razionale. Quindi perché una massima sia morale deve poter essere estesa ad ogni essere razionale. Se una massima riguarda solo me e io non la posso estendere agli altri per una serie di motivazioni, allora non è una regola morale, non è un principio morale. Ma andiamo direttamente alle formulazioni. In virtù del carattere universario, necessario e formale, l'imperativo categorico, che è il modo in cui poi la legge morale si concretizza, quindi la legge morale è la concretizzazione dell'imperativo categorico, diciamo che questo imperativo è uno solo. Tu devi perché devi, però si articola in tre formulazioni dove ogni formulazione ci chiarisce un po' di più un aspetto dell'imperativo categorico. Prima formulazione, con le parole di Kant, agisci in modo che la massima della tua volontà possa sempre valere nello stesso tempo come principio di una legislazione universale. prima formula dell'imperativo categorico ci dice che una massima può essere considerata morale solo ed esclusivamente se io posso estenderla a tutti gli esseri razionali, a tutta la comunità, se è universalizzabile. Ora, l'imperativo categorico ci impone di agire secondo una massima che noi desideriamo che possa essere adottata dai più, che possa essere adottata dagli altri e nell'essere adottata dagli altri questo porta chiaramente un beneficio e non va a detrimento della comunità e della società stessa. Quindi nel momento in cui la massima può essere estesa a tutta la comunità, ecco che acquisisce la forma della legge universale di comportamento. Facciamo un esempio banale. Qualcuno potrebbe egoisticamente darsi come massima di non restituire mai il denaro che ha preso in prestito. Immaginate di universalizzare questa massima. Cosa accadrebbe se tutta la società avesse questa legge universale? Non rendere mai il denaro che è stato dato in prestito. A parte il fatto che se tutti gli uomini seguissero la medesima regola ad un certo punto si verificherebbe un danno per tutti ma anche per noi stessi perché un domani questo denaro che magari noi abbiamo dato in prestito non ci verrebbe restituito. Quindi la prima formula ci dice che dobbiamo agire in modo da universalizzare la nostra massima. La nostra massima diventa morale nel momento in cui noi possiamo universalizzarla e quindi nel momento in cui porta un beneficio alla società intera. Andiamo alla seconda formulazione dell'imperativo categorico. Agisci in modo da trattare l'umanità sia nella tua persona sia in quella di ogni altro sempre anche come fine e mai semplicemente come mezzo. Anche qui. L'imperativo categorico che cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo che noi dobbiamo imparare a rispettare la dignità umana e di considerare soggetto tutti coloro che sono soggetti. Facciamo un esempio. Un oggetto chiaramente è sempre un mezzo per raggiungere dei fini ed è giusto che sia così. Non posso avere come fine un oggetto ma un soggetto invece non può essere considerato solo ed esclusivamente come mezzo per raggiungere dei fini ma deve anche essere considerato come fine. Per esempio mi viene in mente la questione di un capo d'azienda, un manager. Il manager ovviamente ha degli operai. Un capo d'azienda ha degli operai. Questi operai sono un mezzo, rappresentano un mezzo perché egli possa chiaramente guadagnare. Ma poi il capo d'azienda è tenuto anche a non sfruttare gli operai non trattandoli solo come mezzi ma considerandoli e riconoscendoli come dei fini. E quindi la seconda formulazione chiama in causa proprio il rispetto della dignità umana perché ogni individuo ragionevole è un soggetto e quindi deve essere considerato tale. Andiamo alla terza ed ultima formulazione dell'imperativo categorico. Agisci in modo che la tua volontà in base alla massima possa considerare contemporaneamente se stessa come universalmente legislatrice. Questa terza formulazione si collega un po' alla prima. In questo caso si vuole sottolineare l'autonomia del soggetto morale che è sottoposto a una legge, deve obbedire alla legge, però contemporaneamente anche colui che leggifera. Questo perché Kant immagina che esista un regno dei fini, ovvero una comunità ideale di esseri ragionevoli, cioè ragionevoli vuol dire che sono tali perché riconoscono le leggi e obbediscono ad esse, ma ogni membro è chiamato ad essere al tempo stesso, sia legislatore che suddito, perché la ragione leggifera, la ragione riconosce la legge morale, per cui ciascuno di noi in qualche modo produce, nota, conferma l'esistenza della legge morale, ma è anche chiamato in tutta libertà ad obbedire a questa legge morale. Kant viene in qualche modo definito un filosofo che sta parlando di una morale dell'intenzione, intenzionalità. Che cosa vuol dire morale dell'intenzionalità? Si attribuisce a lui questa tipologia di morale. Kant ci dice ad un certo punto che non è tanto l'azione ad essere morale, ma l'intenzione con la quale noi svolgiamo l'azione che porta, conduce alla moralità. Non esistono azioni che siano buone o che siano cattive in sé. Ciò che le rende tali è l'intenzione con le quali queste azioni vengono svolte. E quindi diciamo che per Kant non è sufficiente che un'azione sia svolta secondo il dovere, ma deve anche essere compiuta per il dovere. Infatti, se io la compio, se io compio un'azione morale solo secondo il dovere, non avendo una partecipazione personale in quello che sto compiendo, sto semplicemente, come dire, compiendo un'azione legale, ma non morale. Quindi io posso essere assolutamente legale, agire assolutamente nella legalità, senza però compiere un'azione morale. Molto interessante questa cosa, perché perché un'azione sia morale io devo compierla con una partecipazione interiore, deve essere interiormente ispirata. Kant ci parla di rigorismo nella morale. Perché la morale è rigorosa? La morale è rigorosa perché è la ragione a dettarla. Non c'è nessun sentimento che deve prevalere o deve intervenire nell'adempimento, nel compimento della legge. Questo perché? Perché non posso in qualche modo fare intervenire un elemento di sentimentalismo all'interno della morale. Perché altrimenti anche lì io non sarei un soggetto morale. Se io consento, se io concedo l'elemosina a un povero semplicemente perché mi fa pena, il sentimento della pena invalida la moralità della mia azione, cioè il fatto di dare l'elemosina. Io non devo provare un sentimento nello svolgimento di un'azione morale, perché altrimenti non mi sto comportando in modo morale. L'unico sentimento che Kant ammette è il rispetto della legge, perché il rispetto della legge chiama in causa che cosa? Quella consapevolezza che ciascuno di noi è chiamato, non solo al rispetto della legge, ma anche al fatto stesso che siamo legislatori tutti all'interno di questo regno dei fini, di questa comunità ideale, dove tutti siamo chiamati a dare la legge e nel contempo a rispettarla.